Questa cagnolina triste è Luna. Luna stava per essere abbandonata nella giornata di ieri. L'abbiamo saputo da alcune persone che ci hanno chiamato con urgenza chiedendoci di fare qualcosa perché la famiglia era determinata ad andarla a buttare chissà dove prima della partenza per le vacanze. Naturalmente abbiamo pensato a denunciare, abbiamo pensato a minacciare, a fare tutto quanto per punire questo comportamento ingiustificabile e spreggevole. Infine abbiamo riflettuto e abbiamo capito che per la cagnolina sarebbe finita molto molto male. Bisognava prenderla, questa era la priorità. E così siamo andati a parlare con queste persone, abbiamo imposto loro di microcipparla in modo tale da non pensare poi di abbandonarla con facilità e l'abbiamo presa in custodia per trovarle una famiglia. e nel frattempo sterilizzarla. Sì perché la povera cucciolotta qui è in calore, al suo primo calore. Forse anche per questo che volevano liberarsene perché lei aveva delle perdite in casa. Da queste persone non c'era da aspettarsi nessun tipo di ragionamento logico. Anche voler riportare il ragionamento era un fallimento in partenza. Quindi niente, le abbiamo tolte a loro e adesso la piccina è con noi. Lei è triste perché viveva con i bambini, con i figli di questa famiglia che non avevano colpa naturalmente e le volevano un mondo di bene. Adesso anche i bambini sono stati privati di Luna come Luna è stata privata di loro. Cosa possiamo fare per Luna? Possiamo solo trovarle una famiglia degna. Queste famiglie esistono, per fortuna sono in tante. Dobbiamo solo presentarla e sperare che lei tocchi il cuore di queste persone. Luna è una meticcia di volpino. Non so se vi rendete conto dalla foto. Le sue dimensioni sono ridotte, lei pesa meno di 10 kg. Di carattere dolcissima, buonissima. Luna purtroppo tra poco rimarrà da sola. Tra poco il canile chiude, noi andiamo tutti a casa e lei rimarrà qui, nelle stanze dell'infermeria. Sola, soletta, con altri cani. A lei piace stare con gli altri cani, certamente. Però è ovvio, preferisce più la compagnia delle persone e non avrà sicuramente i suoi bambini, purtroppo. Povera Luna. L'unica cosa che possiamo fare per lei adesso è trovarle una famiglia. Come dicevo prima, una famiglia degna. Dovrà aspettare tanto ancora la povera Luna, dopo quello che ha passato? Oppure gliela troviamo subito una famiglia? Lei è carinissima, guardatela. Fulvo chiaro. Meno di 10 kg di peso. Dolce, affettuosa, calma. Non meritava quello che le hanno fatto. Per fortuna l'abbiamo salvata. Questo è quello che conta. Ciao Luna. Ciao piccola. Non essere triste.